Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, come state? Oggi mi preparerò con voi per la prima dello spettacolo We Will Rock You con Marta come protagonista Marta farà scaramance e vi giuro che non vedo l'ora Tralasciando un attimo la mia faccia perché sono struccata, mamma mia Cioè, diciamo che sono un po' stanchina e si può vedere dalle mie occhiaie Comunque sono troppo elettrizzata per questa sera Perché Marta l'ho sentita cantare un sacco di volte in casa Una voce pazzesca Ma sul palco proprio non l'ho mai vista E so che spaccherà tutto perché la sua voce è unica Quindi le mie aspettative sono molto molto alte Poi so appunto che sta provando da tantissimo Continua a fare prove su prove ogni giorno E quindi sicuramente uscirà uno spettacolo bellissimo Quindi per questa occasione ho deciso di truccarmi, pettinarmi e vestirmi con voi Direi di iniziare subito dal trucco che così copriamo questa cosa Perché mi servirebbe una bella cremina, eh Solo che non so quale prendere per il viso Perché io ho la pelle molto secca E se avete qualche crema da consigliarmi qua sotto nei commenti Scrivetemelo che così provvedo e compro una bella crema decente Per prima cosa iniziamo dal fondotinta Io ho quello di Dior Forever Natural Nude Che mi ha dato la mia migliore amica Pennello per il fondotinta E iniziamo Comunque raga vi lascio qua accanto Tutte le date dello spettacolo We will rock you Perché ci sarà il tour Mi raccomando con i biglietti Perché so che vanno a ruba Quindi se siete interessati a vedere questo spettacolo Che sarà pazzesco Io già lo so Mi raccomando andate sul sito e prendete i biglietti Copriamo un po' i difetti Questo diciamo che lo metto un po' su tutta la faccia, eh Poi comunque di sera non è che il trucco si vede tantissimo, eh Poi non avendo il fissante per il trucco Non mi ricordo il nome Che poi Marta non potete capire è super elettrizzata Perché comunque era tipo da tre anni che non ritornava a teatro Con i problemi, con il covid e tutto Non hanno più potuto fare le prove E quindi dopo tutti questi anni finalmente ritorna sul palco Ed è super emozionata Cioè alla fine è la sua passione, il suo sogno E finalmente è ritornata sul palco a cantare A lasciarci tutti a bocca aperta Già rimango a bocca aperta quando canta in casa Che comunque non è la stessa cosa che non è che alzi tantissimo la voce Perché comunque ci sono dei vicini Correttore della NYX E vado a metterlo sotto alle occhiaie Un puntino qui sotto al sopracciglio Così Pronta per uscire Amore sto arrivando Spargiamo Il fatto raga è che ogni volta che mi trucco così in telecamera Io non vedo bene Quello che Che faccio Perché non è la stessa cosa Cioè con lo specchio riesco molto meglio Dovrò esagerare un pochino con la terra E il blush Perché tanto a me poi dopo un pochino Mi va via il trucco Non avendo comunque il fissante Il trucco a me dopo un po' va via Poi di sera naturalmente si vede di meno E quindi devo un po' esagerare Ah ma un giorno Giuro che farò la mia postazione make up Vi ricordate che ai tempi ce l'avevo a casa La postazione make up Ma poi mi sono trasferita e tutto E qui non trovo un angolo perfetto per La mia postazione Perché comunque ci serve spazio Capito Io direi di andare a prendere Un po' di cipria Ho quella della Kiko Numero 03 Questa è nuova Iniziamo a metterla su Tutta la faccia Un po' meno sotto alle occhiaie Perché qui vado a metterne una un po' più chiara Sì devo darmi un po' una mossa Perché poi dopo devo fare altre cose Però perlomeno sono già pronta Così appena ritorna Franci da lavoro Si prepara anche lui Mi sa che si mette il completo questa sera Vado a prendere questo ombretto Che sembra tipo cipria alla fine E ne metto un pochino Sotto alle occhiaie Perché deve essere più chiaro qua sotto L'altra cipria diciamo che È un po' più scura Preferisco metterla sul resto della faccia Ma sugli occhiaie È meglio questa chiara Adesso terra numero 05 Sempre della Kiko E iniziamo Io il contouring diciamo che Lo faccio con la terra Quindi poi vado anche su Dove mettere un po' Qui Ok Sì ma adesso ho il collo bianco Perché raga io ho il viso troppo chiaro Solo che se vado a prendere Le cose Quindi il fondotinta È chiarissimo Cioè divento un fantasma Giustamente voglio un po' di colore Sulla mia faccia E quindi devo truccare anche il collo Base fatta ma ci manca un'ultima cosa Blush Uso questo piccolino Che tra l'altro mi aveva regalato Marta Questo è della Benefit E mettiamolo qua sopra Anche un po' sul naso Io naturalmente Ho calcato un po' di più Ma perché tanto tra due ore Il make up già Si è sistemato E quindi l'eccesso È andato via Fa tutto da solo il mio make up Io direi quindi adesso Di iniziare Dagli occhi Anche se nel make up Di solito Truccano prima gli occhi E dopo fanno la base Però io mi trovo meglio così E quindi Continuo a fare nel mio modo Adesso Prendiamo Questo ombretto Bianco Un po' glitterato Marta ha detto comunque Di fare un make up Un po' Rock Quindi diciamo che Utilizzerò un colore Un po' più scuro Rispetto al solito Che di solito Vado in giro con L'ombrettino Sul marroncino Comunque un qualcosa Di delicato Perché Non mi piace esagerare E adesso Vi stupirò Ombretto Glitterato Ma questo qui Proprio Super glitterato Sempre della Kiko Numero 07 Glitter shower Proprio mi serviva Un ombretto così Guardate adesso Quanto si vede No vabbè Io innamorata Solo che comunque Non è che lo metto Ogni giorno Non c'è solo Per le occasioni speciali Perché È bello vistoso Diciamo Ho questa paletta Alcuni ombretti Purtroppo mi si sono rotti Raga Perché Mi è caduta per terra Vado a prendere Questo ombretto scuro Che è già un po' Consumato Che tra l'altro L'ho utilizzato Un bel po' Che vi piace Devo cercare Di spumare bene Dopo naturalmente Andiamo a perfezionare Il tutto Scusate Alla fine Mi sistemo Con lo specchietto Così Passiamo Al prossimo occhio Attenzione Nell'angolino Vedo una signorina Di nome Chloe Ciao Chloe Ma Diamo un bel bacio Alla mamma Facciamo la nostra pausa La nostra Pausa Di coccoli Amore Tu sei la vita Sei la vita Guardate Dai Devo dire che Chloe È la mia distrazione Più grande Lo ammetto Adesso mettiamo L'eyeliner Della NYX Con questa punta Perché mi trovo Da dio So già che tra poco Vi abbandono Perché andrò Allo specchio Ok Non è che vedo bene Mettiamolo pure di qua No scherzo Vado allo specchio Eyeliner messo Il make up Mi piace tantissimo Sta venendo molto bene L'effetto era quello Che volevo Magari si Dovrei sfumare Un po' di più Questa parte Dopo comunque Allo specchio Cercherò di perfezionare Il tutto Ho cambiato modo Di metterlo Perché ormai Non va più Ma vanno più I foxy eyes Cosa che non è che posso fare Perché Ho l'occhio Un po' strano A parte che ce l'ho Incappucciato C'ho la palpebra Cadente Adesso passiamo Al piegaciglia Ci siamo quasi Raga Poi passiamo Ai capelli Tanto L'ipiastro E basta Mascara Della NYX Non vedo l'ora Di vederti cantare Cioè Finalmente Poi comunque Marta ci mette Una passione Pazzesca In quello che fa Perché È la sua vita Cioè lei adora Il suo lavoro Il teatro Il cantare E sarà Altrettanto emozionante Vederla A me vengono i brividi Quando qualcuno canta Benissimo Mi vengono i brividi Occhi perfetti Mi piacciono un sacco Mi immagino già che c'è il mio amico Christian Che sta guardando questo video Cri Tu che sei molto critico Visto che lui è un make up artist Com'è il make up? E adesso passiamo alle labbra Vi dico solo che ho problemi con le matite Perché a quanto pare serve il temperino apposta per temperarle Io li ho sempre temperate con il temperino normale E questo è il risultato E quindi adesso vado a prelevare il colore con questo pennellino E faccio il contorno labbra così Però funziona lo stesso Il file giustifica i mezzi Secondo me per l'evento di stasera è perfetto Un po' stile rock Gli occhi Adesso pettiniamoci Piastoniamoci i capelli Che casino fatto con l'elastico? L'elastico qua dietro Li ho legati proprio male Anche se sono già lisci È solo che dopo aver fatto la doccia Io li leggo sempre Poi mi rimane il segno dell'elastico a metà E quindi di conseguenza li vado a piastrare Anche se poi comunque sono completamente lisci Però devo levare comunque quella riga Piastra E iniziamo Tanto io basta che do due passate E sono a posto E poi finalmente passiamo all'outfit Naturalmente questa sera vi mostrerò alcuni spezzettoni dello spettacolo Perché voglio proprio rendervi partecipi di questa cosa Perché sono troppo elettrizzata Come sono? Speriamo che vadano bene Passiamo all'outfit Raga questo è il mio outfit per questa sera Sembra tutto nero Però in realtà è una giacca con il vestitino nero sotto Con delle borchette Adesso ve lo faccio vedere meglio Questa è la giacca Giacca nera con spalline imbottite Mi piace un sacco Cioè diciamo che mi completa un po' gli outfit E poi questo vestitino A manica lunga Con Schiena scoperta E qua sul colletto E sulle maniche Ha queste borchettine Vestiamoci subito Questo è il vestito Guardate che bello che è Mi piace tantissimo Bellina anche la giacca no? Chloe l'imposa Amore ti piace l'outfit di mamma? Io sono pronta per questa sera Adesso aspetto Franci Ciao Ciao patata Cappottone Perché metto il cappotto Per andare allo spettacolo E ci sono Ci vediamo più tardi Perché vi metterò qualche pezzetto Dello spettacolo Un bacione grande grande Bocca al lupo amore E a dopo E ci vediamo più tardi 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 Spettacolo pazzesco Raga io sono rimasta a bocca aperta Ma appena Marta ha iniziato a cantare E mi sono emozionata C'ero io col fazzolettino Che cercavo di asciugarmi le lacrime Di nascosto Perché comunque è stata un'emozione pazzesca Vederla lì sul palco Poi bravissimi tutti Amore cosa pensi Dello spettacolo di ieri? Wow E io non sono da teatro Assolutamente Ma ieri C'è proprio bellissimo Bravissimi tutti E un applauso Alla nostra Marta Bravissima Marta Bravissima amore Adesso vi saluto Vi mando un bacione grande E ciao Ciao ragazzi Grazie a tutti